Domani mi arruolo. Ora è chiuso, andrai subito. Eugene... Non mi serve il tuo permesso, papà. Sono maggiorenne da un pezzo. La cosa peggiore quando curavo i soldati della grande guerra non erano le orrende ferite che straziavano il loro corpo, ma le ferite che straziavano la loro anima. Non voglio guardarti negli occhi un giorno e non vedere nessuna scintilla, nessun amore, nessuna vita. Mi spezzerebbe il cuore.